Ok, siamo alla quinta stazione di Montefuji di solito una minchia perché c'è un bel po' di tempo brutto con un sacco di nuvole adesso stiamo cercando qualcosa da mangiare e niente stiamo tutti questi negozi di souvenir flash macchinette per bere e costi da mangiare ma sono tutte confezioni dei stili souvenir quindi niente, dobbiamo attaccare un po' e tra un po' inizieremo a salire i giapponesi stanno prendendo tutto veramente sul serio tanto che stanno strecciando sono tutti belli preparati con le loro tute sono un po' troppo esagerati come sempre e sono le nuvole all'altezza nostra e finisce la terra e ci sono le nuvole e finisce la terra e ci sono le nuvole siamo abbastanza alti, siamo a oh yeah almeno 2500 metri penso ok, andiamo a cercare cosa da mangiare grazie 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 grazie